bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità nel video di oggi riguardanti ovviamente gli ultimi giorni di questa season 2 di fortnite oramai ci avviciniamo alla stagione numero 3 ieri con la patch 12.60 abbiamo potuto scoprire un sacco di cose che stanno per accadere alcune sono anche già accadute e ne vedremo davvero delle belle prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del mio video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si ragazzi si parla di doomsday event insomma l'evento giorno del giudizio quello che arriverà appunto nel giro di 10 12 giorni secondo le stime cosa bisogna sapere innanzitutto ancora non è successo per quanto mi riguarda in game ma succederà prestissimo quando entrerete nella sezione degli agenti e più precisamente da mida se notate questa immagine cosa manca esatto come vedete là dietro non c'è più la macchina del doomsday quindi quella sfera di cristallo comunque quella sfera trasparente verrà spostata in mappa e ho un'immagine che vi mostro appunto un'angolazione diversa e come notate ragazzi sparita completamente sono rimasti i cavi e tra l'altro siamo entrati nell'ultima nella penultima fase dei cavi infatti se guardate la lobby ci sono tutte le scie di corrente che li trapassano e i cavi sono dappertutto nella lobby nelle sezioni degli agenti qua dove c'è la doomsday weapon o anche come si dice in in alto dove c'è il tavolo di tutti gli agenti non sappiamo dove verrà messa ovviamente questa macchina se qualcuno ha qualche idea ovviamente lo può scrivere qua sotto e tra l'altro ci sono anche nuovi cambiamenti non so se lo avete notato ma sembrerebbe che da qualche ora in cielo si stiano formando delle nuvole molto molto strane intorno all'agenzia potrebbero essere delle nuvole che sono state create o che verranno create artificialmente da mida con l'utilizzo appunto dell'energia che serve per far funzionare la macchina del doomsday e quindi tutto l'evento stesso una roba veramente tanta tanta roba che ancora non abbiamo capito ma sicuramente ragazzi una roba che non dobbiamo tralasciare e per terminare tutto il discorso dell'evento fra poco arriverà esattamente sopra l'agenzia il famoso classico timer che ci segnerà appunto l'inizio di quello che sarà il doomsday event anche qua non abbiamo delle indiscrezioni su quando sarà esattamente il giorno ma preparatevi che presto ci sarà nuovamente un timer che segnerà appunto quando dovrà accadere e ovviamente non ce lo potremo perdere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché se non lo sapete loggando semplicemente in game vi verrà regalato un nuovo loading screen quindi una schermata di caricamento celebrativa che va insomma ad inserirsi nell'elenco di quelle che già abbiamo e che mostra la schermata di caricamento principale di questa stagione 2 del capitolo 2 il tutto totalmente gratuito quindi tanta tanta roba grazie a epigames anche per quest'altro regalo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva una nuova icon series la signorina che vedete qua alla vostra destra si chiama l'oser fruit io sinceramente non l'ho mai sentita prima di dover fare questo video mi sono informato ovviamente ed è una youtuber penso sia anche una streamer da quanto mi risulta che fa ovviamente fortnite e non solo visto che fa anche qualcosa di apex un paio di milioni di iscritti su youtube molto conosciuta probabilmente all'estero e abbiamo dei dati o meglio se andiamo a vedere nei codici nei file sorgente notiamo che c'è la skin che si chiama l'oser fruit la descrizione che dice one sweet white berry vitamin packet and ready to slash è una piccola fragola un pacco di vitamine pronti to slash per attaccare per colpire interpretatelo così avrà anche il suo backpack che si chiamerà bounce berry e avrà anche un emote dedicata che si chiama fright punchers la descrizione dice goodbye sony keep your friend close quindi solo vibrazioni positive insomma una schiena che ci sta assolutamente e che segna un nuovo capitolo per le icon series dopo ninja e dopo altri che sono arrivati tipo ad esempio travis oppure la laser beam major laser insomma avete capito stiamo aspettando ovviamente che ne arrivino altre perché abbiamo anche t few o gente che comunque è importante nell'ambito più competitive di fortnite vedremo quando saranno pronte c'è anche marshmallow tra le skin e volevo farvi vedere invece una cosa ragazzi che mi avete chiesto in tanti quindi esco un attimino dalla modalità del replay perché qua c'è bisogno di rimanere un attimo in lobby tutti mi state chiedendo ma come cavolo si fa a prendere il rimborso del dragacorno il dragacorno ragazzi il deltaplano che era stato rimosso e che viene dato adesso è possibile appunto chiederne il rimborso senza spendere nessun ticket allora ci spostiamo come vi ho detto appunto nella lobby di gioco siamo qua in tempo reale bisogna andare nelle tre righe in alto quindi aprire il menu impostazioni di nuovo andare sull'ultima icona e in teoria a me non lo fa sinceramente ma ho visto degli altri streamer a cui l'ha fatto come vedete dove c'è scritto richieste di rimborso totali voi dovreste avere la possibilità di cliccarci sopra e vi darà appunto che il dragacorno si può restituire qualora non aveste ancora questa possibilità sono sicuro che epic games fixerà questo problema perché non posso essere l'unico che ce l'ha io ho utilizzato tutti i ticket da chissà quanto tempo di rimborso ma abbiamo letto che non è necessario avere nessun ticket per restituirlo quindi ragazzi se per caso voi avete questo problema come ce l'ho io non vi preoccupate perché sono sicuro che verrà tutto fixato il prima possibile e potrete insomma restituire e avere il rimborso del dragacorno e prima di salutarci volevo anche farvi vedere e parlarvi dell'ultimo argomento curioso che è stato scoperto qua siamo a foresta frignante come vedete siamo vicini alla casa quella con il camino in pietra se non sbaglio dovrebbe essere proprio quella che ha il camino in cima con il forziere e c'è per chi si ricorda i miei vecchi video questo fungo molto strano perché è un fungo che c'è solamente a foresta forse non lo sapete ma questo fungo è ben più che un semplice fungo ha delle animazioni e farà parte di qualcosa che ancora noi non sappiamo vi faccio vedere ragazzi quali sono le sue animazioni ed eccolo qua ragazzi qua siamo direttamente nei file di gioco se la va a flossare prepotentemente i più attenti di voi ricorderanno che avevo già fatto e già parlato di un video in un video di questo fungo almeno almeno un mesetto fa non sappiamo ovviamente ancora quale sia il reale scopo di questo nuovo simpaticissimo funghetto che appunto farà il suo ingresso a questo punto immagino probabilmente nella stagione tra insomma ragazzi una season 2 che oramai è giunta al termine e che promette di darci tante tante emozioni con questo doomsday event io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso il live su twitch ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti